Ciao a tutti amici di Aurora Magazine Quest'oggi volevo parlarvi di un'applicazione disponibile gratuitamente su Play Store e molto simpatica Sto parlando di Enigmi Eleganti che una volta installata compare con la scritta Elegant Riddles Questa applicazione ci permetterà di avere sul nostro telefono centinaia di Enigmi da risolvere appunto, cercare di risolvere diciamo noi stessi oppure da fare alle altre persone, ai nostri amici per vedere appunto se riescono a risolverli L'applicazione è molto semplice come vedete avremo questo il menu principale che ci permette di cliccare sul pulsante Play e scegliere in tutta la lista di Enigmi cliccare su Random e quindi si aprirà un link a caso oppure leggere le informazioni dell'applicazione quindi come vedete è un'applicazione molto molto semplice cliccando su Play possiamo avere tutta la serie di Enigmi che possiamo andare a risolvere come vedete sono 101 e sarà possibile appunto cliccare su un Enigma per andare a leggere la descrizione ci saranno Enigmi diciamo di logica, Enigmi di matematica altri Enigmi tra bocchetto che quindi diciamo che sembra che la soluzione sia una cosa molto semplice invece magari è tutt'altro e così via come vedete avremo il testo dell'Enigma abbiamo una schermata dove possiamo andare a prendere appunti quindi se appunto dobbiamo fare dei calcoli o dobbiamo scriverci giù delle cose possiamo semplicemente scriverle qui quindi cosa molto utile e poi possiamo cliccare sulla soluzione e possiamo andare appunto a vedere la soluzione dell'Enigma poi in fondo possiamo andare a cliccare un'altra sfida random oppure aprire la sfida successiva quindi come avete visto un'applicazione veramente molto semplice ma anche secondo me molto interessante e molto divertente perché appunto ci permetterà di avere centinaia di Enigmi da risolvere e da far risolvere ai nostri amici secondo me l'unica cosa che manca a questa applicazione è la possibilità di condividere un Enigma nel senso che magari io sto facendo un Enigma che è interessante mi manca la possibilità di condividerlo con un'altra persona e chiedere appunto se magari lui riesce a risolverlo magari appunto lanciargli le sfide e vedere in quanto tempo riesce a risolverlo questa forse è l'unica cosa che manca che però comunque è una cosa da niente bene, detto questo io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione ciao a tutti